Ciao ragazze e benvenute sul canale. Allora, oggi ho deciso di registrare un nuovo video dedicato ai prodotti make-up che sono riusciti a terminare da gennaio ad oggi, che siamo a maggio. Non sono tantissimi prodotti, però sono contenta di quello che ho terminato, anche perché ho fatto un pochino di spazio, non tantissimo, però tanti erano lì da un po'. E niente, quindi vado un po' random. Il primo prodotto è questo qui, ed è il Lip Oil del Dottor Pau Pau. Allora, questo io l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Look Fantastic, quindi l'ho voluto utilizzare subito. Non è plumping, assolutamente, e non mi è piaciuto per niente, a parte che non l'ho trovato idratante. Ma la profumazione era veramente orribile, soprattutto poi quando applicate cose sulle labbra che hanno una pessima fragranza. Comunque, voi non vuoi un po' qualcosa con la lingua tocchi. Quindi avevo in bocca questo sapore orribile, quindi assolutamente no, mai più. Invece un prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo di Astra, della linea Pure Beauty, che avevo già comprato un'altra volta e l'ho ripreso. L'unica cosa, come vedete, si macchia quando andate a chiudere il coperchio. E quindi questa è una grossa pecca, perché tenendolo in borsa comunque me la va a macchiave. Però il prodotto mi piace tanto perché è veramente idratante. L'unica pecca per me è che utilizzando questo ho smesso di utilizzare i rossetti, perché mi piaceva tanto utilizzare questo. Quindi per ora non penso di riprenderlo. Uno dei miei correttori preferiti è questo di Essence, il Skin Loving Sensitive, che mi piace tanto. E di questo ne ho parlato e riparlato tantissime volte. E l'acquisto spesso, anche perché non contiene siliconi. E quindi dovrò riprenderlo, però ne ho altri da terminare. E su Amazon, non potendo andare in dei negozi fisici, avevo comprato questi correttori, che erano, non so se erano in offerta o nel loro costo. Comunque credo di averli pagati entrambi, 2,50 euro l'uno. E questo è il camuflaggio. Allora, sicuramente sono dei correttori coprenti, non alta coprenza ai massimi livelli. Però trovo che questi terminano molto più facilmente di questo qui. Nel senso che questi sono 5 ml, questo è di 3,5 ml. Questo mi dura molto di più di questi. Quindi non lo so, perché forse sono molto più liquidi, quindi si consuma più prodotto, non vi so dire. Però comunque, li ho utilizzati, ma non è, diciamo, uno dei miei prodotti proprio preferiti. Poi ho terminato, questo qui l'ho inserito, non so perché l'ho inserito nella scatola. Comunque è un eyeliner di Illamasqua, che non mi è piaciuto per niente, quindi sono stata contentissima di terminarlo. Questo eyeliner è un eyeliner in penna, comunque sia un eyeliner nero, però non mi piace lo scovolino. Non so se si vede. È tipo pennarello, praticamente, e quindi scriveva male. Magari forse su una palpebra giovane si stende meglio, però sulla mia era un grosso no. Poi ho terminato quest'altro eyeliner, sempre trovato nel calendario dell'avvento di Look Fantastic, è questo di EIECO, che non so se si pronuncia così. Comunque, un eyeliner che ho utilizzato con piacere, decisamente molto meglio di quell'altro. Questo è il pennellino. Onestamente, ora ne ho un altro da portare a termine, e poi credo di non riprendere più eyeliner per il momento. Poi, un prodotto che vado a cestinare è questo di MAC, ed è un rossetto, colorazione Emulus, e praticamente è nuovo. E vi direte, perché allora lo cestini? Lo cestino perché, purtroppo, è andato a male. Non so come, la profumazione è proprio cambiata. Allora, cerco di farvi uno sboccio. La profumazione è andata a male, sa di rancido, eppure non è un prodotto vecchio. Comunque, questo è il colore, che non è nemmeno tra i miei preferiti, comunque va bene. E niente, quindi lo devo cestinare, perché non si può proprio portare. Poi ho terminato questo qui, questo ombretto di Neve Cosmetics. Qui avevo insegnato la scadenza a giugno 2024. Vediamo se c'è il colore. Sì, si chiama OIEA, che era un color lilla. Anche questo l'ho trovato in un calendario dell'avvento di prodotti bio, che non so perché abbiano scelto il colore lilla, fra tanti colori che si poteva scegliere. Però comunque sono contenta di essere riuscita a terminarlo entro il PAO. Poi, altro prodotto, è questo qui, di By Terry, che avevo trovato in una box, ed è una CC Serum, nella colorazione 4 Sunny Flash. veramente scurissima per me. Tant'è che l'ho utilizzata a mo' di blush illuminante. Anche perché poi non era un prodotto da usare su tutto il viso, perché io ho la pelle grassa, quindi capirai. E poi questo è un mascara, il grande mascara del brand, ora non mi ricordo come si chiama, Lush Cosmetics, se non sbaglio. Comunque quello del famosissimo Siero. E non mi è piaciuto. Pessimo proprio mascara, c'è molto molto di meglio. Poi, altri prodotti, sono questi qui, di Essence, delle salviettine Sorbisebo. Queste sono vecchissime, però io le ho comprate all'epoca in scorte, quindi man mano ora le porto a termine. E poi vado a cestinare due pennelli. Questo, che è un pennello no brand, insomma, preso forse su Amazon, o comunque pennelli cinesi, insomma, per intenderci, che ha fatto il suo lavoro, però adesso io lo utilizzavo per applicare la cipria e sembra di scartavetra la pelle, quindi no. Questo è invece un pennello nuovo, che è di Real Techniques. Questo qui, vediamo, eccolo. Slanted Arch Definer. Che non so che serve, questo qui, con questa spugnetta. Quindi è inutile che ce l'ho. Non so cosa serve, non lo uso, lo ho cestino. E quindi, niente, questi erano tutti i prodotti che sono riuscita a terminare. E niente, spero di avervi tenuto con compagnia, insomma, con questo breve video. E ci vediamo alla prossima. Un grosso bacio, ciao ciao!